Ciao Gabriella! Ti sto aspettando qui al Giffoni Film Festival, mi sei piaciuta molto nel film Oggi Sposi e non vedo l'ora di vederti. Ciao! Ciao Gabriella, sono molto felice che mi sei piaciuta qui al Giffoni. Mi sei piaciuta molto nel film Oggi Sposi. Ciao e benvenuto a Giffoni! Ho amato la tua interpretazione nel film Oggi Sposi, non vedo l'ora di abbracciarti qui al Giffoni, ti aspettiamo, un bacio! Ciao Giffoni! Scusa, è colpa mia se la ti vuoi mano ai partiti, tu ce n'hai 80 di onorevoli! Perché è colpa mia se la politica gestisce le banche. Sì, ho capito, però che tristezza, tu ti stai vecchi con la prostata, scusa. Dico, è anche il mio matrimonio? Se per me ti voglio qualcuno di giovane, di cool. Calciatori! Stai zitto! Scusa. Ma tipo dei calciatori? Ciao Gabriella, non vedo l'ora di vederti qui al Giffoni. Nel film Oggi Sposi, mi sei piaciuta tantissimo. Ho apprezzato moltissimo la tua interpretazione nell'uomo perfetto. Ciao Gabriella, sono felicissima di averti qui a Giffoni, sei stata un'attrice splendida nell'uomo perfetto e non vedo l'ora di vederti. Ciao Gabriella, mi sei piaciuta tantissimo nella tua interpretazione nell'uomo perfetto e quindi non vedo l'ora di vederti qui a Giffoni e di condividere con te questa fantastica esperienza. Non è proprio uno di quei tipi che ti fa perdere la testa, no? Sì? No, no. Ah, ecco, punto. Non so, uno di quelli che al primo sguardo sa già tutto di te, che ama le stesse cose che ami tu, un po' intrigante, inquieto. Poi meglio se è moro con due belli acchicciare e le labbra carnose. Sei bravissima come attrice, mi piace molto come reciti in tutti i tuoi film e sono contenta di averti al Giffoni. Mi sei riusciuta molto nel film L'amore eterno finché è dura e sei un'attrice brillante, giovane, molto espressiva. E che mi stava mentendo di nuovo. Insomma, che mi aveva trascinato i figli soltanto perché sentivo che mi stavo allontanando. Sai, lui è un uomo da un intuito incredibile, è una di quelle personalità un po' magnetiche, sai? Mi dà più l'idea di uno che c'era due biglietti mille miglia da consumare così. Mi dà l'idea, insomma. E quando ero lì con lui è successa una cosa incredibile. Cioè? Ti ho sognato. Mi piacciono molto i tuoi film, specialmente Ex Amici Come Prima. Sei molto brava. Ciao Gabriella, benvenuta a Giffoni, non vedo l'ora di incontrarti, ti aspettavo da molto tempo. Ho adorato la tua interpretazione nel film Ex Amici Come Prima. No, no. No, 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 no. Guardi che qui, se c'è qualcuno che si è innamorato di lei, quella sono io. Ha capito? E siccome lei è un bugiardo, perché lei è un bugiardo, allora io mi ammazzo, va bene? Mi ammazzo? E io mi ammazzo perché lei non mi crede. C'è qualcosa che non torna qui. Voglio dire, se siamo tutti e due innamorati, no? Allora che cosa ci ammazziamo a fare? Sono felicissima di averti qui a Giffoni e non vedo l'ora di incontrarti in sala. Non vedo l'ora di vederti. Un bacio. Ciao Gabriella, sei una bellissima persona e ti stimo tantissimo. Non vediamo l'ora di vederti a Giffoni. Grazie a tutti! Benvenuti a Giffoni!